Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Due guest star nella serie TV via Cox Everson. La serie TV via Cox Everson, con Keren Bursin e Afsanur Sankaktutan, scandisce le serate del giovedì. La serie TV via Cox Everson porta il pubblico sullo schermo ogni giovedì. Due attori ospiti di successo partecipano al quinto episodio della serie E-Up. La popolare serie TV di Canal D, diretta da Ali Bilgin e scritta da Kubra Sulun, sarà condotta dall'event Mese, il murat del film Netflix e Merve Kalt. Mese, che darà vita al ruolo di Eren in Ia Cox Everson, regalerà momenti di tensione ad Hates, Keren Bursin. Nella quinta e nella sesta puntata è ospite anche la bella attrice Eva Dedova. Dedova, che attira l'attenzione con i suoi progetti come i Mamuti Lemeriem e i Rise of Empire Sottoman, farà ingelosire Leila, Afsanur Sankaktutan, con il personaggio Seymav a cui darà vita. Cosa ne pensi della serie Ia Cox Everson? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video!